Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video di gameplay su Fortnite Oh, allora, come avete visto dall'ultimo video, ragazzi, le ho prese proprio di santa ragione Oggi facciamo un altro obiettivo Facciamo sempre rimanere fra i primi top 3 E poi facciamo, sempre che scegliamo, tra come l'altra volta, con il famoso dado Ok, ragazzi, allora, facciamo che con l'1 posso usare solo il piccone Col 2 solo una pistola Col 3 un fucile di quelli scrauzzi, di quelli semplici così E 4, 2 cazzo stai, 4, il fucile, un bel fucile cazzuto, ovviamente Finché non riesco a prendere una di queste armi Non posso fare niente Non posso usare niente Se non solo e soltanto quello che ci dice il dado Ma prima di tirare il dado, ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanella, mettere la commenta, fa tutto il cosiddettore Sempre Quindi, ragazzi, ve lo dico Sempre Daglieci Daglie Quindi iniziamo subito Facciamo la conta del dado Facciamo così Allora, vediamo il dado così Chiuso E facciamo E giriamo E giriamo E giriamo E giriamo 1, 2, 3 Ok Io scelgo questa parte qua Do sta Questa qua Che è la numero 1 Dai L'1, raga Dai Ma che cazzo faccio con solo il piccone Mi devo inventare qualcosa, raga Mi devo inventare qualcosa, perché Posso usare solo il piccone Cioè, vabbè, raga Che sfido E vabbè, raga L'altra volta mi è capitato il fucile Ed è andato del merda Magari stavolta Prendo il piccone Mi va bene Ma perché Vabbè, raga, vabbè Iniziamo subito E buttiamoci subito Dai Buttiamoci subito Dai, vediamo Dove va, dove va, dove va Dove va, dove va Oggi facciamo proprio così A missile proprio Ci buttiamo proprio a missile Ma perché posso costruire Che è sta cosa qua Proprio costruire Vabbè Ci buttiamo proprio a missile Proprio così Non moriremo subito Morirò se non apri Paracadute Proprio così A missile A missile Proprio così Vai Vai Aprivo Aprivo la paracadute Oh Così, così, così Proprio così Tutto Senza una direzione Così Dove ci butta il cuore Raga Dove ci butta il cuore Proviamo così Proviamo Allora Oh Capito che sono stati Solo i picconi Però E' sta cosa qua E' sta cosa qua Vabbè Gli obiettivi Vuoi andare E restare Nell'occhio Della tempesta Della tempesta E' una tenda Che non mi serve A niente E delle munizioni Che non posso usare Che è sta cosa Di costruire No, vabbè Posso costruire Un muro Che cosa Mi può servire Mai Costruire Un muro Non mi interessa Non mi interessa più costruire Basta Basta Che è successo Ho costruito Che cosa ho costruito Una baraccopoli Ho costruito Che cosa ho fatto Raga Mai rompere le palle A una guardia Riproviamo Per la seconda volta Certo che solo Con il piccone Non è che C'ho tanta Tanta cosa Però vabbè Quindi Mai rompere le palle Alla guardia Prima lezione Lezione molto importante Mai rompere le palle A una guardia E vabbè Ragazzi Però l'importante Che dice Resta nell'occhio Della tempesta Quindi Non necessariamente Dobbiamo Ammazzare gli altri Vabbè E vabbè E vabbè Però la volta Subbio Così Impicchiata Proprio così Impicchiata Dove vado vado Sto andando Nella città Dove mi faranno Un mazzo Tanto Guarda quello Un ragone Sta E vabbè Ragazzi Oggi è andata Così È andata E vabbè E vabbè Ragazzi Quindi Oggi È andata Così Proprio Oggi Proprio Last minute Proprio Veloce 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 Mori Subito Mori E vabbè Ragazzi Quindi Speriamo Che la prossima Volta Andrà Meglio E niente Ragazzi Voi mi raccomando Commentate Qua sotto Scrivendo Se ci giocate A fortnite E quale Videogioco Quale Gameplay Preferite Che faccia La prossima Volta Mi raccomando Ragazzi Roba Che si può Fa con uno Smartphone Perché 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 Non ho Una Playstation Quindi Vabbè Ragazzi Quindi Mi raccomando Io aspetto i vostri Commenti Noi ci vediamo Ragazzi Al prossimo Video Shaka Ragazzi Ragazzi Grazie a tutti.